Buongiorno a tutti, oggi parleremo della Germania. Cominciamo dai confini. A nord la Germania confina con la Danimarca, c'è questo tratto in cui si innalza la penisola dello Jutland che abbiamo visto essere la parte continentale della Danimarca stessa. È bagnato a nord dal mare del nord appunto e dal mar Baltico. A est confina con Polonia, Repubblica Ceca ed Austria. A sud confina con l'Austria, ancora con la Svizzera, mentre a ovest confina con Francia, Lussemburgo, Belgio e Paesi Bassi. Il territorio tedesco molto vasto può essere diviso in tre zone. Come vedete la zona a nord, rappresentata da una grande pianura, è il basso piano germanico. Se osserviamo la carta dell'Europa, vi faccio notare che in realtà il basso piano germanico è parte di un'unica grande pianura che attraversa il nord dell'Europa continentale e cambia nome a seconda dello stato che attraversa. Quindi si chiamerà basso piano francese in Francia per poi diventare basso piano germanico e svilupparsi nel basso piano sarmatico in Russia. C'è una zona centrale, rappresentata invece da rilievi collinari, non troppo elevati, mentre la zona a sud è una zona più montuosa. Se ci avviciniamo, i rilievi da teneramente sono al centro della Germania i monti metalliferi, la celebre selva nera al confine con la Francia e a sud le Alpi Bavaresi con i rilievi più alti ma che non superano appunto i 3.000 metri. La Germania è ricca di acque e per quanto riguarda i laghi ce ne sono diversi nella zona alpina a sud il più importante è il lago di Costanza al confine con la Svizzera mentre a nord la regione del Mecklenburgo conta più di 1.000 laghi di cui non impareremo il nome perché non sono così grandi. Importantissimi i fiumi anche come via di comunicazione la Germania attraversata dal Danubio e attraversata dal Meno che è famoso per passare da Francoforte il fiume più importante è il Reno che è anche una delle zone più abitate di tutta la Germania e ricordiamo ancora il fiume Elba che attraversa tutta la Germania a nord passando ad esempio da Lipsia e da Hamburgo i climi sono piuttosto facili da ricordare perché ricalcano le tre zone morfologiche che abbiamo visto quindi a nord nelle zone pianeggianti è atlantico quindi frequenti precipitazioni gli inverni sono freddi e umidi nelle zone collinari centrali il clima è continentale quindi piove meno le stati sono calde e affose gli inverni freddi un po' come nella pianura padana in Italia mentre a sud nelle zone più montuose il clima è alpino e già sappiamo che è caratterizzato dai stati freschi e piuttosto brevi e inverni rigidi quindi andiamo ad indicare le città più importanti che riporterete poi sulla carta Monaco sicuramente Francoforte sul meno la capitale Berlino Hamburgo ed ancora Lipsia Stoccarda e questa zona la cui più importante città è Colonia ma vicino a Düsseldorf e Duisburg per parlare di popolazione ed economia mi servirò di questo powerpoint innanzitutto la popolazione come tutti gli stati ricchi il tasso di incremento naturale è inferiore allo zero quindi la popolazione non sta crescendo ma sta leggermente diminuendo la presenza straniera come in tutti gli stati dell'Europa centro-meridionale è in netto aumento pensate a fine del 2017 gli stranieri in Germania erano più di 10 milioni anche se le richieste soprattutto di asilo si sono ridotte rispetto alla metà del decennio quindi al 2015 se pensiamo che la Germania ha 80 milioni di abitanti 10 milioni significa che un ottavo sono stranieri il quasi 13% degli stranieri provengono da diverse nazioni la maggioranza sono i turchi l'1,8% della popolazione i polacchi ma sono al confine moltissimi anche gli italiani e poi i siriani piuttosto curiosi greci, bulgari, croati vedete sia immigrati che arrivano dai paesi extraeuropei che immigrati che arrivano dai paesi europei la legge sulla cittadinanza che è entrata in vigore nel 2000 quindi 20 anni fa considera cittadini tedeschi quelli che sono nati in Germania e di cui uno dei due genitori risieda nel paese da almeno 8 anni anche in questo caso la piramide della popolazione ci dice che è una popolazione che sta invecchiando quella tedesca come per Svizzera e Austria la maggior parte delle persone ha tra i 45 e i 59 anni la densità di popolazione non è elevatissima la Germania è piuttosto grande vedete come gran parte delle persone si concentrano attorno alle grandi città Berlino, Hamburgo, Francoforte, Stoccarda, Monaco e soprattutto lungo questa valle che è la famosa Valle del Reno la più industrializzata d'Europa e anche una delle più abitate in effetti la popolazione urbana cioè il numero di persone che risiede in città è molto alto superiore sia alla media italiana che alla media europea per quanto riguarda la religione non c'è una confessione dominante se ricordiamo già i tempi di Lutero quando ci sono state le guerre religiose tra i vari principi all'interno del Sacro Romano Impero Germanico c'era stata una divisione tra principi protestanti e principi cattolici questa suddivisione permane ancora oggi quindi in leggera maggioranza 43% circa i protestanti poi i cattolici ci sono anche un certo numero di musulmani soprattutto turchi come abbiamo visto e poi confessioni di altro tipo per il 23% la forma di governo ricalca appunto quella dell'Austria e della Svizzera quindi anche la Germania è una repubblica federale ci sono 16 stati confederati cioè 16 regioni che hanno una certa autonomia qua avete la carta delle regioni a sud la Baviera di cui Monaco è la capitale poi Salendo, Sassonia, Lassia, La Renagne e così via il potere esecutivo spetta al cancelliere e ai suoi ministri il cancelliere che in questo momento è Angela Merkel e c'è un parlamento composto da due camere anche in questo caso se abbiamo studiato l'Austria la struttura è la stessa cioè c'è un Bundestag una dieta cioè un parlamento federale con 614 deputati e un Bundesrat cioè un consiglio federale con dei membri che sono designati dai singoli lander dalle singole regioni dai singoli stati confederati in proporzione al numero di abitanti la storia della bandiera è piuttosto curiosa ricordo che la Germania fino al 1870 non era stata unificata verrà poi unificata dalla Prussia e quindi ancora nel Medioevo c'era questo sacro romano impero germanico e quindi l'unità era data da questo il simbolo unitario era quindi lo stemma dell'imperatore che era un'aquila nera su uno sfondo dorato l'oro che poi è diventato giallo della bandiera gli altri due colori il rosso e il nero erano i colori dei Lutzwosche Freikorps cioè erano dei volontari che hanno combattuto nelle guerre di liberazione soprattutto contro Napoleone quando ci saranno i moti di liberazione gli studenti nazionaldemocratici sceglieranno quindi proprio questi colori i colori dei Lutzwosche Freikorps e i colori dell'imperatore nero, rosso e oro il giallo sostituirà poi in un secondo tempo l'oro perché era troppo costoso per quanto riguarda l'economia settore primario l'agricoltura agricoltura molto fiorente ci sono diverse produzioni la patata la barbabietola da zucchero il tabacco la colza il girasole la vita è piuttosto diffusa soprattutto in certe aree e ci sono molte foreste che forniscono materie prime soprattutto per l'industria del legno della cellulosa e della carta importanti sempre nel primario l'allevamento suini e bovini e la pesca d'alto mare soprattutto appunto nei mari a nord che sono gli unici a cui ha accesso diretto la Germania ci sono diversi porti ma è nel settore delle risorse minerarie che la Germania ha sempre dato il meglio di sé innanzitutto i bacini carboniferi che sono sempre meno sfruttati perché il carbone non è un'energia nuova la RUR il più grande bacino carbonifero d'Europa è stata anche una delle regioni più sviluppate e industrializzate del mondo proprio per questo motivo marginale l'estrazione di idrocarburi c'è però una grande rete di oleodotti ci sono rilevanti bacini di gas naturale anche se molto gas viene comunque importato dal mare del nord e dalla Russia come del resto vale per tutta l'Europa Italia compresa un'interessante politica è stata fatta dalla Germania però per quanto riguarda l'energia è stato deciso ad esempio nel 2011 di chiudere progressivamente i reattori nucleari erano ben 17 e nel 2018 si è stabilito anche che verranno chiuse le centrali a carbone entro il 2038 la Germania infatti ha avviato una grande campagna proprio sullo sviluppo di quelle che sono le energie rinnovabili eolico e solare e nel 2018 queste energie hanno superato il contributo del carbone alla produzione energetica nazionale quindi pian piano i tedeschi hanno deciso di produrre gran parte dell'energia di cui necessitano con l'eolico e i pannelli solari l'industria è sviluppatissima è un settore solido possiamo ricordare la siderurgia che ha un ruolo di primo piano in Europa i prodotti chimici gomme sintetiche fibre artificiali resine fibre sintetiche l'industria metalmeccanica macchine da stampa macchinari tessili e macchine agricole e l'industria automobilistica ma non solo trattori locomotive numerosi centri di elettronica elettrotecnica e la meccanica di precisione la Germania è famosa anche per le pelletterie ed è ai primi posti del mondo per il commercio delle pellicce importanti sono le industrie ottiche le industrie della ceramica degli strumenti musicali dei giocattoli e poi naturalmente la produzione della birra vi ho riportato alcuni dei più famosi marchi Balsen famoso produttore di genere alimentari la Bayer che è un'importantissima casa farmaceutica l'Allianz che è un'azienda di assicurazioni dal punto di vista ottico le famose lenti Zeiss sono le lenti che praticamente montano tutte le fotocamere e le videocamere nel mondo ma non solo dal punto di vista dei giochi la Ravensburger che non fa solo giochi in scatole puzzle la Siemens che è un colosso dell'elettronica e poi naturalmente i marchi automobilistici BMW Mercedes Volkswagen Opel Audi e la Porsche la Germania è il terzo produttore mondiale di birre vi ho riportato alcune delle birre tedesche la più famosa è la Bex poi c'è la Kronbacher la Paulaner che non è riportata in questa foto molte altre birre anche se hanno nomi tedeschi non sono tedesche ma sono bensì austriache danesi belghe e così via per quanto riguarda il settore terziario è importantissimo il commercio legato soprattutto alla grandissima rete di trasporti che poi vedremo meglio importanti le società finanziarie e le banche vi ricordo che la banca centrale europea sede a Francoforte il turismo è importantissimo i tedeschi sono degli ottimi clienti anche per altri paesi europei quanti tedeschi vengono in vacanza in Italia e quindi esportano ricchezza in questo senso vengono a dare i soldi ad esempio all'Italia ma è in crescita anche il turismo in entrata turismo di carattere naturalistico quindi la selva nera oppure turismo nelle grandi città Berlino e Monaco e nelle antiche città universitarie importantissima come dicevamo la rete dei trasporti la navigazione interna può contare su una fitta rete di canali soprattutto intorno all'elba e intorno al fiume Reno vi ho riportato appunto il corso del Reno è uno tra i fiumi più navigati di tutta Europa interessante anche la rete stradale che è molto capillare e soprattutto la rete autostradale che è gratuita ed è la più sviluppata d'Europa importante anche la rete ferroviaria con numerosi tratti ad alta velocità e il trasporto aereo la Lufthansa che è la compagnia di bandiera della Germania e una delle compagnie aeree più famose del mondo e gli hub gli aeroporti sono importantissimi soprattutto Francoforte che è forse appunto l'hub più importante l'aeroporto più importante d'Europa concludiamo con alcune specialità culinarie questo è il currywurst cioè il Würstel al curry Würstel che è tipico di tutte le zone della Germania soprattutto a Berlino si mangia appunto questo Würstel che è condito con il ketchup lo vedete bene il curry e servito di solito con le patatine fritte e il pane bianco moltissimi prodotti a base di patate cartoffel in tedesco la cartoffel salad che a me personalmente non piace per nulla e la cartoffelsuppe cioè una minestra a base di patate e ancora il brezzel che si può chiamare anche prezzel tipo di pane famosissimo si mangia soprattutto con la birra all'Octoberfest vedete ha una forma di anello con le estremità nodate è fatto appunto da farina malto lievito di birra e acqua con aggiunta di bicarbonato di sodio è piuttosto croccante fuori è morbido dentro e sopra questa glassa che si crea viene messo del sale oppure del sesamo ed infine per citare un dolce è il kraffen kraffen che in certe zone della Germania soprattutto a Berlino non si chiama kraffen ma si chiama fancooken o berliner fancooken quindi il dolce berlinese è fatto a palla è una pasta lievitata dolce di solito fritta all'interno ha una confettura confettura quindi di solito marmellata siamo noi che tendenzialmente mettiamo la crema nel kraffen i tedeschi mettono spesso la marmellata e lo spolverano con lo zucchero a velo con lo zucchero a velo